Disagi e code hanno le ore contate, ok Diana, si lavori sulla Statale 42 verranno fatti di notte. Forse a sbloccare la situazione è stato il maxitamponamento di martedì a Esine, ma il presidente di comunità montana Alessandro Bonomedi aveva già sollevato il problema dopo aver raccolto le lamentie e il malcontento dei cittadini, dei camionisti e degli utenti della strada in genere, costretti a code interminabili o ad intasare le strade comunali a causa dei semafori. Il tratto è incriminato soprattutto quello fra Darfo e Breno, dove solo per miracolo martedì non si è consumata l'ennesima tragedia della strada, quando un camion è piombato su tre auto ed un furgone delle pompe funebri prima di finire fuori strada e schiantarsi contro un albero. Se sia stata o meno la tragedia sfiorata, la chiave di volta per sbloccare la situazione, non è certo. Di certo però c'è che questo mercoledì è arrivata ufficialmente l'ordinanza di Anas con cui vengono spostate alcune manutenzioni in orario notturno. Si continuerà per alcuni giorni H24, poi si opererà di notte. Già questo venerdì e sabato si lavorerà dalle 21 alle 6, lasciando libera la strada durante il giorno. Gli interventi di manutenzione sono indispensabili per garantire la sicurezza delle nostre strade, afferma il presidente Alessandro Bonomelli. Ne abbiamo altri in programma, ma tramite il proficuo dialogo con Anas che abbiamo iniziato stiamo raggiungendo un accordo per procedere durante la notte. Intanto questo giovedì, fra Rogno e Costo Valpino, l'ennesimo incidente sulla statale 42 è di un ferito lieve e di due mezzi, un'auto ed un furgone semidistrutti il bilancio dello scontro. Toccherà le forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi di legge far piena luce sulla dinamica, ma pare che un'auto proveniente dalla rampa per rimettersi sulla statale abbia tentato un'inversione e si è stata centrata dal furgone che avrebbe fatto di tutto per evitare l'impatto e che è stato piuttosto violento, tanto da far calambolare i mezzi dopo l'impatto ai lati opposti della carreggiata. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale di Costo Valpino che si è occupata anche di regolare il traffico a senso unico alternato. In posto anche i responsabili dell'ANAS che una volta rimossi in mezzi hanno provveduto a ripulire la sede stradale. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza di Camuni a soccorso e trasferito all'ospedale di Lovere in codice giallo. Non si sono registrati particolari disagi per il traffico.